Una spinta al commercio in occasione del Black Friday per rendere viva la città con eventi collaterali tra questi scontati e iniziative varie. Venerdì sera la città ospiterà lo spettacolo di uno dei mostri salti della comicità italiana, Gerry Calà, che si esibirà in Piazza Duomo alle 21.30 al coperto con un grande palco per non annulare lo spettacolo in caso di maltempo, con il suo Una vita da libidine concert show. Una serata anni 80 che potrà richiamare tante persone, ma non è l'unico evento perché sono previsti aperitivi cenati e DJ set, alcuni anche organizzati nei negozi, visite guidate in città a cura di Carla Ciccozzi e dalle 16 a caccia delle mascotte, evento dedicato ai più piccoli che sarà una sorta di caccia al tesoro con questi personaggi che gireranno per il centro. A presentare l'iniziativa il vice sindaco Raffaele Daniele che alla delega al commercio e il sindaco Pierluigi Biondi. Intanto ci sarà un mostro sacro della comicità italiana che è Gerry Calà, che ravviverà la piazza ma in generale tutto il centro. Continuiamo nella strategia di portare eventi per far rivivere la nostra città, adesso li stiamo anche destagionalizzando come stiamo facendo in occasione del Black Friday, ma come abbiamo fatto anche qualche giorno fa con un evento rivolto ai giovanissimi, con il contest creator Remalloro che ha richiamato centinaia di ragazze e ragazzi in piazza e serve questo da un lato per continuare a tenere viva la città e dall'altro per lanciare un messaggio ai commercianti, a chi è investito in centro, che i loro sforzi sono sostenuti dall'attività dell'amministrazione. Il centro storico idealmente sarà indiviso in diverse zone, ognuna identificata da un colore, che sono già le zone commerciali cittadine da diverse attività ed eventi. Si è cercato di coprire ogni singola zona del centro. L'esperienza dei venerdì in centro, organizzati dal comune dell'Aquila nel pre-covid, sono state un'esperienza ruscitissima, che ha portato in città moltissime famiglie. Il sindaco Bionni ha annunciato che a breve ci saranno novità anche in questo senso. Simone Cocciglia e Alessia Spezza sui canali social dedicati all'evento faranno dei live. I commercianti potranno aderire, rilanciando sui social le loro campagne scontistiche.